In compagnia dell'Avvocato Gianluca Palmieri, Presidente dell'Associazione Veri contro la violenza delle donne, organizzatore di eventi. Avvocato, il regolamento comunale, l'articolo 2 e 4,3, recita, approvato con delibera commissaria del 22-2012, recita che le interruzioni musicali devono essere attuate all'una di notte per tutti, per i lidi, per i pub, per i ristoranti, comunque tutti quelli che fanno attività di intrattenimento, di divertimento. Cosa ne pensi? Il merito è giusto oppure bisognerebbe dare una proroga, quindi spegnere la musica un po' più tardi? A proposito della questione ci tengo a specificare che mi piacerebbe darti la mia opinione per quanto riguarda la parte più strettamente organizzativa. Non vorrei entrare nel merito della parte burocratica e specificamente del regolamento, poiché preferisco più darti la mia opinione su quello che significa e quello che comporta organizzare eventi. Siamo con Alessandro Gentile, titolare del ristorante e bar Pipe, nonché presidente di Eventi Family. Spegnere la musica l'una di notte che cosa significa per un'attività turistica? Allora, credo che il discorso vada ad abbracciare varie problematiche. Il problema non è solo individuale del locale in sé per sé, ma è un po' più complesso, io credo. Una città come Mondragone che strutturalmente è preposta ad un'attività turistica, spegnere la musica l'una può danneggiare un po' tutto il meccanismo. Il meccanismo che viene rappresentato dai vari club che ci sono da Mondragone, perché il settore viene poco sfruttato, almeno fino ad ora.